Continuano imperterite le misteriose scomparse che hanno accompagnato gli ultimi mesi. La vittima è stavolta il grandio Josh, noto imprenditore e fondatore della Close-Up. Sembrerebbe che due giorni. La situazione inizia a farsi grave, non raggiungevamo un picco di sparizioni del genere da anni. Non riesco nemmeno a capire il criterio di selezione. In più bisogna considerare che ultimamente molti criminali hanno approfittato di questa catastrofe per insabbiare i loro crimini. Anche con tutte queste incognite però, la mia domanda resta una. Chi sei davvero? E cosa fai a tutta questa gente? Ehi Shail, non pensi sia l'ora di tornare a casa? E rischiare che qualcun altro venga rapito? Mi dispiace, ma non posso. Ancora lì, vero? È impossibile smuoverlo. Hai sentito dell'ultima sparizione? Sì, il creatore di Close-Up. Non so quanto sia affidabile, ma si sta spargendo voce che in realtà lui è riuscito nel suo intento. Hai desiderato così tanto di diventare anche tu uno dei imprescelti? Chissà se ti sei già pentito, ma poco importa, so bene che l'unico che può farcela sei tu. Abbiamo piena fiducia in te Josh. Riporta a casa tutti questi innocenti.